I Nerti San Valentino opera da oltre 30 anni nell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di inerti naturali e riciclati usati per l'edilizia civile, industriale e stradale. L'azienda è attualmente dislocata su tre siti estrattivi, di cui due, bussolengo e pescantina, con annessi impianti di lavorazione per inerti naturali ed artificiali. Gli impianti di lavorazione a partire dal materiale naturale operano una vagliatura, frantumazione e selezione per ottenere quattro grandi tipologie, ghiaini tondi, pietrischi, sabbie e ghiai e miste, per un totale di oltre 15 diverse pezzature di materiale. Gli aggregati, da impiegarsi principalmente nella produzione di conglomerati cementizi, sono provvisti di marcatura CE. Per sviluppare prodotti che si integrano e, se possibile, si sostituiscono agli aggregati naturali, nel corso degli anni sono stati affiancati impianti per la lavorazione di materiali riciclati. Negli aggregati riciclati troviamo il misto riciclato, la sabbia Ecosand e la ghiaia EcoGhiaia. Ecosand nasce dal riciclo di rifiuti inerti costituiti principalmente da ballast, traverse ferroviarie e scarti lapidei. Ecosand è un aggregato industriale artificiale pienamente conforme ai CAM edilizia e vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali il premio per lo sviluppo sostenibile della manifestazione Ecomondo. Inerti San Valentino è quindi in grado di fornirvi una vasta gamma di ghiaie, sabbie e pietrischi, ottenuti sia da aggregati naturali sia da rifiuti riciclati, implementando e vantando nella sua storia certificazioni come sistema qualità, sistema di gestione ambientale e sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Inerti San Valentino, qualità ed innovazione negli aggregati.